Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bari sta acquisendo documenti in una ditta barese relativi a quanto si apprende ai lavori di ristrutturazione eseguiti negli anni scorsi nella scuola di Amatrice, crollata a seguito del terremoto del 24 agosto. Le verifiche sono state disposte dall'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, e affidate alla GDF di diverse città italiane. Secondo quanto si apprende, gli uomini del nucleo anticorruzione e dei nuclei di polizia tributaria delle Fiamme Gialle stanno operando a Rieti, Torino e Bari, presso le sedi della regione, della provincia e del genio civile, oltre che delle sedi delle ditte. In particolare, a Bari, i finanzieri stanno raccogliendo presso una ditta che ha eseguito parte degli interventi di ristrutturazione di alcuni anni fa, tutta la documentazione utile a ricostruire modalità e condizioni dell'appalto di affidamento dei lavori e successiva esecuzione degli stessi.